Allora adesso vediamo come fare un aumento inclinato a sinistra, si passa il ferro da dietro, a destra scusate, si passa il ferro da dietro, si fa così, poi si passa il merca punto, si lavora una maglia a diritto e adesso si fa un aumento a sinistra, quindi si infila il ferro sul davanti e si lavora a diritto ritorto. Ecco, e poi si va avanti.